Si è concluso il Taormina Film Fest. È stata un'edizione caratterizzata da polemiche e critiche. Sentiamo Lucio Di Mauro. Si chiude il sipario, anzi i titoli di coda annunciano la fine dell'edizione 69esima del Taormina Film Fest. Alcuni hanno detto finalmente. Non possiamo dire che è stato un bel festival. Troppe polemiche, troppe assenze, alcune anche volute. Troppe persone che si sono incoronate regine, diventando despote con poteri decisionali sulla presenza di fotografi o giornalisti. Troppe chiusure, troppe poche, masterclass, alcune addirittura a pagamento. Apprezzato l'impegno di tutta la fondazione, direttori artistici, in poco tempo sono riusciti a tirare fuori dal cilindro magico tutto quello che si poteva. Con non poche difficoltà, offrendo comunque una programmazione internazionale di qualità e gradita. Apprezzato l'impegno dello staff dell'ufficio stampa, ci è stato molto vicino, con una collaborazione straordinaria e assidua. Apprezzata la straordinaria conduzione della collega Elvira Terranova, sempre impeccabile, precisa e professionale. Apprezzato anche il lavoro della sicurezza. Ma questo è stato un festival decisamente da dimenticare. Nonostante una finale piena di stranezza, una festa per il gratidissimo ritorno al teatro antico dei nastri d'argento, anche se impostato in modo diverso. Ma la presenza di Laura Delicolli e del sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani ha impreziosito la finale. Purtroppo dobbiamo dire che per alcuni l'umiltà è un'opzionale. Pertanto invito gli organizzatori del settantesimo Festival del Cinema di Taormina a stare attenti nella scelta di persone pericolose, tra virgolette, e non professionali. Una in particolare, che per ovvi motivi non diciamo il nome, che diventano sovrani assoluti imponendo come legge la propria volontà o il proprio capriccio, facendo scatenare l'ira di tutti gli operatori della comunicazione, compreso l'ufficio stampa del Festival. Vedi il caso Edison Ford, Joe Saldana e Abbal Ferrara. L'aspetto di questo comportamento è la grande capacità delle persone cattive di essere dei manipolatori capaci di distorcere qualsiasi fatto che non vogliono accettare. Amiamo molto questo Festival. Non vogliamo che venga distrutto. Concludo ringraziando tutto lo staff dell'ufficio stampa, che si è distinto ancora una volta. Ci ha salutati, pensati e ringraziati nella nostra chat di gruppo per il lavoro effettuato. Queste sono solo rarità. Grazie.